Consigliere Lebro ha presentato già una bozza per un regolamento provvisore dei lavori del Consiglio. Sì, noi entreremo nelle vere funzioni al primo gennaio. È importante oggi, prima dell'approvazione vera dello Statuto Generale dell'area metropolitana, condividere insieme a tutti i gruppi di qualsiasi schieramento politico un regolamento provvisorio in modo da poter lavorare. È un lavoro particolare, complesso. Non è solo un lavoro amministrativo. Bisognerà convincere l'intera comunità dell'area metropolitana che l'area metropolitana è un ente che è necessario non per sommare i problemi che già ci sono, ma per cercare di risolverli. Perché la comunità partecipi maggiormente? Secondo lei è auspicabile l'elezione diretta del sindaco e degli organi metropolitani? Io vedo troppa concentrazione sul sistema elettorale che sicuramente è parte importante. Oggi però io vorrei, come ho detto in aula, che l'intera comunità partecipasse alla stesura dello Statuto. E per far ciò, secondo me, è importante che noi ci adottiamo di un regolamento capace di ascoltare tutti, ordini professionali, associazioni, società civili, chiunque voglio dare un proprio contributo di cui l'aula dovrà prendere sicuramente conoscenza e atto. È una posizione comune alla lista con la quale è stato eletto? È una posizione che per oggi ho portato io in consiglio, nel nuovo consiglio della metropolitana, ma sono convinto anche a sentire gli interventi che questa responsabilità ce la sentiamo tutti, ovvero di non chiuderci in questa aula, ma di ascoltare tutti i comuni della provincia di Napoli, il comune di Napoli e tutti coloro che vogliono aiutarci a una stesura di uno Statuto quanto più rispondente alle nostre esigenze. Grazie.